Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, finalmente è arrivato il 2200G sostitutivo e come potete vedere dalle mie spalle sta funzionando correttamente. Allora, diciamo che per chi non avesse visto il video precedente, vi faccio un piccolo riassunto, ho ricevuto un primo Ryzen 3 2200G che aveva qualche problemino. Effettivamente una volta installati i driver andavo a utilizzare solo metà dello schermo, mentre l'altra metà faceva andare completamente in crash il PC. Prima però di dare tutta la colpa a quel povero processore, voglio dirvi che non era solo colpa del processore, effettivamente quello era difettoso o era leggermente più sensibile, però una parte della colpa era anche di questo SSD della Drevo, NVMe PCI Express, perché anche con questo processore ho avuto qualche problemino, non come con il processore precedente, ma ho avuto qualche problema anche con questo e la causa era appunto questo SSD. Quindi sono andato a effettuare una clonazione di tutto ciò che c'era all'interno di questo SSD, che è quello che utilizzo per la test bench, all'interno di un altro SSD NVMe della XPG a data e non c'è stato più nessun tipo di problema. Per chi fosse interessato a sapere se avessi già provato con un altro SSD sull'altro processore, sì avevo già provato e il problema della scheda video rimaneva comunque. Quindi non era un problema solo dell'SSD, ma purtroppo quel modello era effettivamente difettato, anche se questo SSD ha contribuito ad aggiungere altri problemi. Adesso come potete vedere abbiamo la test bench perfettamente funzionante e soprattutto devo dirvi una cosa, sono andato a effettuare dell'overclock su questo processore e si comporta divinamente. Era da un bel po' di tempo che non mi divertivo così tanto con un processore, soprattutto con scheda video integrata, perché sono riuscito a ottenere dei risultati veramente, veramente incredibili. Adesso vado ad aprire uno dei giochi che ha spopolato di più nell'ultimo periodo, ovvero Fortnite. Per chi dovesse essere interessato io la sera streamo su Twitch principalmente Fortnite nel pomeriggio CS quando riesco. E se voleste venire a portare un saluto mi trovate appunto dalle 8 e mezza, 9 in poi più o meno su Twitch. Avviamo un attimo il gioco perché voglio farvi vedere effettivamente come si comporta. Perché parlando di una scheda video integrata è veramente qualcosa di ottimo. Iniziamo dalla RAM. La RAM è a 3600 MHz. Sicuramente è una frequenza che non andrà a utilizzare una persona che vuole effettuare una configurazione super low budget per il proprio PC. La frequenza della RAM fa parecchia differenza quando la si va a utilizzare come memoria RAM per la propria scheda video integrata del processore. In questo caso inoltre è anche in dual channel, quindi la velocità di prestazioni aumenta. Vi faccio vedere le impostazioni. Siamo a 1920x1080 che è la risoluzione del monitor. 1920x1080, gli FPS sono limitati a 240 ma non avremo problemi a raggiungerli. E tutto il resto è al minimo. Ovviamente possiamo alzare anche i dettagli. Come molti di voi sapranno io preferisco giocare a dettagli leggermente più bassi ma con un framerate più alto. E come potete vedere siamo a un framerate assurdo. Per essere una scheda video integrata 1080p Fortnite gira da dio. Veramente è una cosa incredibile. Ho visto altre persone che hanno effettuato test su questo gioco non con RAM così veloce, non con overclock eccetera. E le prestazioni sono nettamente peggiori. Nettamente. Una volta aver collocato questo processore e anche la scheda video integrata si riesce a ottenere delle performance veramente incredibili. Adesso siamo nella ricerca, nella lobby di attesa. Quindi abbiamo degli FPS anche leggermente diversi, più instabili probabilmente. Qui siamo nel bus, tra poco dobbiamo saltare. E come potete vedere in ogni caso siamo a 110 FPS. Abbastanza stabili. Quindi se guardo il cielo ci lo chiamo a 240, ma non dobbiamo guardare il cielo. Saltiamo per vedere un attimo all'interno di una costruzione eccetera. Perché gli FPS sono ancora più stabili. Ma in ogni caso già così funziona veramente, veramente bene. Per quanto riguarda la frequenza della CPU e della GPU siamo a 3.9 GHz per il processore e 1.7, 1700 MHz per la GPU. Quindi siamo passati dai 3.7 in boost per il processore a 3.9. Quindi 200 MHz di differenza. E da 1100 di base per la scheda video a 1700. Quindi un boost veramente buono. Guardate. Il gioco è super super fluido. Adesso chiudiamo un attimo Fortnite e vi faccio vedere un altro gioco. Vi ricordo che siamo andati già a effettuare altri test con schede video integrate. su CSGO e nella mappa che sto caricando adesso, in questo caso è Dust2, senza bot in local, siamo arrivati intorno al massimo ai 180 FPS, 190 in alcuni casi. Sto parlando di FPS massimi, di media ovviamente leggermente più bassi. Con questa scheda video integrata, overclockata, sia RAM, processore e scheda video, adesso vi faccio vedere effettivamente a quanto riusciamo ad arrivare. Guardate, siamo in long e abbiamo 200 FPS. L'input lag è praticamente assente e veramente il gioco è super super fluido. Adesso sto giocando, guardate, addirittura se andiamo in tunnel, guardate, 7,280 eccetera. Quindi veramente veramente buono. Vi faccio vedere un attimo le impostazioni video. Siamo tutto al minimo in 1080. Ovviamente molti player magari giocano anche in 1024x768. Altri preferiscono impostare i dettagli più alti. CS personalmente lo preferisco a dettagli più bassi, ma ovviamente sono preferenze personali. Pensando che è un processore da 99€, quad core, portato a 3.9GHz, con la scheda video integrata, veramente le performance mi hanno stupito. Le performance stock non proprio. Erano più o meno quello che tutti potevano aspettarsi da una scheda video integrata. Effettivamente con un po' di overclock riusciamo a tirare fuori delle prestazioni veramente veramente buone. Guardate, 180 fps anche. 200? Abbiamo superato i 200 in un deathmatch con, vediamo, ci sono, vabbè, 3 bot. Saranno una quindicina, sedicina di persone. E il gioco è veramente veramente fluido. Diamo una conclusione. Mi sento di consigliare questo processore sì, assolutamente. Penso possa essere uno dei migliori acquisti per il low budget, per il gaming low budget attualmente. Soprattutto tenendo conto del fatto che le schede video sono irreperibili e anche le schede video di fascia più bassa hanno dei prezzi veramente assurdi. Con questo processore e schede video overclockati riusciamo a avere delle performance, anche senza una scheda video dedicata, decisamente giocabili. Allora io sono andato a effettuare questi due test al volo per farvi vedere in diretta effettivamente com'è l'esperienza di gioco su alcuni dei giochi più giocati al mondo. Ma è possibile giocare anche titoli AAA, ovviamente facendo dei compromessi, con dei buoni fps. Fino adesso è stato impossibile farlo con una scheda video integrata. Potevamo farlo sì con delle schede video di fascia bassa, ma non con una scheda video integrata. Ovviamente come al solito, in descrizione vi lascio il link del processore. Vi lascerò anche qualche consiglio per la scheda madre RAM da acquistare in abbinata nel caso vogliate andare a upgradare il vostro PC. Vi ricordo di acquistare della RAM più veloce possibile nel caso vogliate andare a utilizzare la scheda video integrata. O anche nonna in realtà. E vi ricordo che in un secondo momento potete comunque andare a aggiungere una scheda video nel caso dovessero scendere i prezzi e tutto tornare alla normalità. O andare sull'usato o in qualche altro modo. Ovviamente in descrizione trovate il link di Twitch come vi ho detto. Se volete venire a darmi un saluto alla sera più o meno verso le 8.30 a 9 su Twitch. E direi che da Blink è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! 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 ! Grazie a tutti.